Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ragazzi semplicemente si chiama ancora Simo Si chiama ancora Simo Cioè a me non è che mi fai impazzire Si, due volte com'india Ah, hai fantasticato su Simo? No Sorrisetto è partito No, oppure dico io ecco vedi il lino vestito E' pure un bel ragazzo gnocco il lino lo dico E' il cantante loro bello Quando si mette la canottiera e non ce la faccio a guardarlo è troppo grosso Si ma un po' grosso Se non è un po' cazzo piccolo anche Sto parlando di lino io sto parlando Ah lino? Lino è bello, è un bel ragazzo Io faccio cagare raga mi spiace Lino è bello vestito Si ma devi spiegare lì chi è lino Lino è il cantante dell'istimia Ok Ti piace lino? No ho detto con Ti spacco la faccia io figa li salto addosso Ti da una cartella ti butta giù Gli conviene buttarmi giù alla prima perché sennò è un bel cazzo di problema Vestito, vestito Guarda che il toro ne prende tante fidati nel senso Incazza tutto il cinghiale Ho detto che è un bel ragazzo Devo stare dal suo passo raga se no continuo Dai andiamo No amo perché andiamo Faccio otto passi avanti a te santo dio cristo madonna E allora me ne frega perché ogni quattro passi mi devo fermare Quindi stai davanti te e vedo il tuo passo Dove dobbiamo andare? Avanti E poi? E poi devo attraversare qua Eh ma te l'ho detto prima Che esempio gli dai? E' come un figlio che lo sgridi ridendogli in faccia Che cazzo di esempio gli dai? Perché sono arrabbiato Perché siete delle coglioni di me raga Cioè no io mi arrabbio non tu eh Cioè se avevo qua davanti il mangiare ve lo dirà solo Ma dai col kimono e sotto non metto nulla Direttamente a cazzo duro con kimono e cintura nera Alla grande proprio Cazzo duro è questo modo di dire stupido Non c'è scala si le cose sono scritte in inglese Sì Questa è una bella notizia Come stai amore mio? Stai bene? Ma basta inquadrarmi ma guarda Che cosa ci hanno dato da bere oggi insieme al mangiare? Il tè verde che non mi piaceva Il tè verde non gli piaceva Non gli piaceva il tè verde raga Io sto bene raga mi fa un po' Perché i proprietari del negozio vogliono che vengano aperti Io ho tradizzo solo un secondo Io ho cambiato in italiano e ho parlato in italiano Oh, in italiano! Oh, in italiano! Oh! Ho bisogno di capire per 20 secondi che mi chiedono se è ok o non Ok, posso chiedere quali ien costa questo? Il prezzo è 5.800 5.800 Ok Ok 2 2 25 25 Ok Do you need shopping back? Yeah I recommend medium size Quale che vuoi? E quella che ci stanno Quale che vuoi? This just size Yeah Thank you Ok Minchia lo store non vuole che vengano tenuti sigillati La Cina Questi sono i biglietti della metro Vediamo se mette a fuoco Questi sono i biglietti della metro di Tokyo ragazzi 220 yen c'è scritto Molto molto figo Voi non lo sapete Ve l'ho già detto ieri ma ve lo ridico anche oggi Ogni Ogni pokemon store SWISH Oh! 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 Non dovrebbe funzionare adesso Ed infatti qua funziona Ok Raga Purtroppo Negli edifici Non prende Purtroppo Negli edifici Non prende Andiamo a Ikeburu Andiamo a girare per le strade Sì Però non devi fare sempre l'incazzato Eh però io figa merda Cioè io pago un servizio e non mi funziona Mi faccio l'incazzato perché pago un servizio che non funziona E l'hai detto? Sì gliel'ho detto E purtroppo c'è stato un errore tecnico che io non potevo prevedere e del quale non sono responsabile Il fatto che questi modem non accettano determinate frequenze che in Giappone vengono fornite E questa cosa non va bene Però va bene così Adesso andiamo a mangiare la pappa raga Allora Adesso andiamo a mangiare la pappa raga 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 Grazie E presentare questi stickers Oh wow Grazie 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 Chi se ne frega Alcune sono molto belle Alcune sono molto belle Alcune sono ci groove Alcune sono belle Ma quanto buona Vuoi la Kirinella Eh? Quella più buona Ci serve un antisempio Un材 Oberya giapponese craft gin legge l'acciato e no no guarda a quale vogliamo i due più questo ho preso il pikachu col monte fuji guarda wow si vede così amo guardate cos'è bello pikachu col monte fuji che bello si buttano i soldi e butto anch'io i soldi fanno la preghiera o comunque un po' che c'è da guarda che gli do il soldo da buttare alla pami fatemi fare una preghiera ragazzi per rifattinare un secondo ma solo questi progetti per buttare comunque un po' che c'è un po' che c'è a a un po' ben ragazzi ragazzi capite capite che questo è il motivo per cui continuo a rendermi conto guarda che fai cadere l'accanto aspetta un attimo perché gli ha fatto vedere il suo accordo che veramente io non l'avrei fatto vedere riconoscendo alcuni elementi della sua certa sinceramente è così sono 6 veri sueggi in giappone e me sono veloce a raso sono un cazzo di falco pellegrino scatto con un dragone delle nevi tu devi fare il falco pellegrino anche tu amo io do l'ultimo check allora qua mi dice Toshimala si fanno beccare in tutto il mondo e non va bene e non va bene è una cosa che vi dovete vergognare perché io mi vergogno eh un po' mi vergogno anch'io vergognatevi eh altro che dai vergognati vergognatevi sai ragazzi ti ho caro però non glielo ridendo eh non glielo dico ridendo però ti ho caro no no io li mando a fanculo e son serissima tu sembra che ti stai